allora buonasera per questo quasi ultimo lunedì oggi svolgiamo un altro paio di 1 barra 2 esercizi sempre sui file con ovviamente l'ambizione no di imparare qualcosina in più a utilizzarli sempre usando come pretesto gli esercizi allora il primo esercizio che vi propongo di fare insieme è quello che è già presente sulle slide che ci dice guarda che tu hai due file che contengono rispettivamente dei dati su delle nazioni nel mondo contengono in ordine alfabetico tutte le nazioni, sul tutte non ci metterei la mano sul fuoco ma non ci importa contengono le stesse nazioni in ordine alfabetico e a fianco di ogni nome di nazione nel primo file compare l'area, la superficie di quella nazione a fianco invece del secondo compare il numero di abitanti, la popolazione quindi l'esercizio cosa ci chiede? ci chiede leggere questi due file e creare un terzo file che contenga la densità di popolazione nelle relative nazioni che è la densità di popolazione e chiaramente è il rapporto tra popolazione e superficie quindi ci chiede leggere due numeri, fare la divisione e buttare il risultato della divisione all'interno del terzo file i due file di partenza con cui lavorare che sono questi qua sull'area e sulla popolazione io me li sono già caricati nella mia cartella sulla settimana 11 però per chi volesse li può scaricare o dal nel materiale dovrebbe esserci se non sbaglio nel materiale del corso dove ci sono le slide in fondo c'è tutti gli esempi in formato zip dove c'è se ve lo scaricate c'è un file zip scarichiamolo in una cartella a caso che contiene tutti dovrebbe contenere tutti gli esempi che sono citati nelle slide qui siamo all'unità 7 c'è una cartella population dentro la quale ci sono questi due file lasciate perdere questa che è già la soluzione dell'esercizio ma ci sono questi due file su cui lavorare ok? quindi li potete scaricare, restare dallo zip e copiarli dentro la cartella di progetto l'importante è che poi li abbiate qua a fianco nella cartella a fianco della quale andrete a creare il vostro programma in Python in alternativa c'è anche la possibilità di andare a prendere dal calendario delle lezioni dove abbiamo le settimane gli esercizi settimanali io li ho già caricati quindi siamo sulla settimana 11 ho già caricato questi due file ad esempio uno dei due è questo e per scaricarlo basta semplicemente usare il download e salvare sempre lo stesso file all'interno della cartella di progetto ecco una cosa che vi consiglio sempre quando cominciamo a lavorare con i file è di copiare o scaricare sempre il file così com'è dallo scaricamento da explorer resource eccetera e non metterli a fare come a volte succede a volte vedo qualcuno fare fare copia e incolla di sta roba qua o copia e incolla del contenuto perché poi magari a volte ti ti perdi come ho fatto qua ho selezionato male la prima lettera ti perdi degli spazi ti perdi l'ultima riga o vai a pescare anche roba che non c'entra niente facendo copia e incolla quindi lavoriamo cerchiamo di lavorare spostando direttamente dei file perché succede che poi il programma sembra che non funzioni perché in realtà sta lavorando su un file che non è corretto ok allora io quindi lavoro su questi due filetti qua che contengono provo a aprire l'uno fianco all'altro se riesco a capire come ok questi due filetti che rappresentano l'area e la popolazione di questi stati ok e sono i due file che il nostro programma dovrà leggere e creare un terzo file che contiene vediamo se è vero quello che avevamo detto entrambi i file hanno lo stesso numero di righe 238 e l'altro anche 238 direi di sì contengono le stesse nazioni almeno occhio e croce viste così quindi ovviamente non ci mettiamo a fare 238 volte i conti a mano ma li dovremmo fare con un programmino che ci andiamo a costruire allora prima di iniziare a buttarci nel programma tutte le volte o la maggior parte delle volte in cui abbiamo a che fare con la lettura di file con l'elaborazione di dati contenuti in file ci dobbiamo chiedere mentalmente una serie di domande per decidere come approcciare il problema adesso qua ho scritto sei passi perché no sembrano delle regole definite in realtà poi ogni volta chiaramente la caristica varia però la prima domanda è forse la più difficile la più importante cioè elaboro i dati al volo oppure prima leggo tutti i dati e poi li elaboro quello che vuol dire elaboro i dati al volo vuol dire che in questo esempio ad esempio dovrei leggere la prima riga del primo file la prima riga del secondo file fare il calcolo che devo fare stampare la prima riga del terzo file dimenticare tutto e passare alla seconda riga leggo la prima riga del secondo file la seconda riga del primo file leggo la seconda riga del secondo file faccio i calcoli scrivo la seconda riga del file di output e così via quindi avrò un ciclo in cui in questo caso tengo aperti tutti i file che mi servono e ad ogni interazione del ciclo diciamo che consumo elaboro un dato ma nelle interazioni successive non ho mai bisogno dei dati precedenti o in nessun punto avrò mai bisogno di un dato futuro alla fine dell'interazione ho isolato il file e non mi rimane nulla in mano ok? non mi rimangono dati non mi rimangono liste che contengono tutti i valori questa è una possibilità non sempre si può fare in questo esempio particolare in realtà si potrebbe anche fare la seconda possibilità è quella invece di memorizzare tutti i dati e poi elaborarli cioè vuol dire che io avrò una prima fase del programma in cui leggo tutti i dati del primo file e li metto beh qui una lista non mi basta forse me ne servono due una per i nomi una per le popolazioni poi leggerò il secondo file e metterò in una lista tutti i dati che sono contenuti nel secondo file a quel punto ci pensiamo a quel punto guardo finora ho solo letto i file li ho salvati da qualche parte nelle strutture dati del mio programma all'interno delle liste e poi ci penso e decido che cosa farci fare i calcoli che devo fare fatti i calcoli ho i risultati e quindi posso creare in questo caso i file di uscita ci sono pro e contro in entrambi i casi normalmente la seconda la prima soluzione quando è fattibile riesco di essere più veloce in termini di righe di codice la seconda è un pochino più generale perché funziona sempre nel senso che il vantaggio della seconda soluzione è che io ho tutti i dati e quindi se dovesse andare a prendere il primo l'ultimo il massimo il minimo lo posso fare perché li ho tutti pronti che inizio a elaborarli a fare dei calcoli solo dopo che ho letto tutto ciò che dovrò leggere mentre nel primo caso se leggo la prima riga io lì sono obbligato ad avere tutte le informazioni per stampare la prima riga del file di uscita quindi se qualcuno mi chiedesse il file di uscita stampamelo in ordine di popolazione per dire non posso perché io quando leggo la prima riga sono la popolazione del primo stato ma non posso sapere se questo è il minimo o il massimo e quindi se deve essere stampato per primo o per ultimo quindi il secondo caso è quello più generale il primo a volte è più semplice quando si può quando il problema mi permette di farlo ma il secondo punto è facile quali file devo leggere quali file devo scrivere forse l'avrei dovuto mettere come primo punto in questo caso era chiarissimo dal testo non ciò che dovessi fare però già anche solo devo capire il terzo punto è questo come si chiamano questi file cioè il nome di questi file è il nome fisso lo scrivo nel codice del programma in questo esercizio sembrava di sì i file si chiamano così c'è scritto lì in altri casi magari il nome del file lo deve inserire l'utente da tastiera e quindi dovrò fare attenzione che lui si dice il nome di un file magari il nome era sbagliato devo controllare che sia corretto eccetera eccetera poi siamo al punto in cui ho aperto i file che mi servono e devo leggere il contenuto allora abbiamo accennato già la settimana scorsa ci sono vari modi di leggere un file di testo per righe per caratteri tutto insieme con una readlines ad esempio e quindi scegliere un po' in funzione del tipo di dato che ho come convenga organizzare la lettura del file se qui c'è un piccolo suggerimento se i dati dei record sono uno super riga tipicamente il ciclo for rischia di essere più comodo ma non è non è detto potrebbe essere comodo perché ad ogni interazione leggo un dato quando l'input è organizzato per linee come in questo esempio ogni riga del file conterrà più dati nel nostro caso ne abbiamo due nome della nazione e un numero che può essere la popolazione può essere l'area la superficie e quindi una volta che ho letto una riga che alla fine mi arriva sotto forma di stringa questa riga dovrò spezzarla ed estrarre i singoli campi i singoli valori nel nostro esempio bisogna fare un pochino attenzione perché i campi sono separati da un carattere o da più caratteri in realtà vedendoli qua provandoli a selezionare nell'editor mi accorgo che sono separati da due caratteri c'è uno spazio e un carattere di tabulazione è un tab perché chi ha fatto il file l'ha fatto così questo è uno dei motivi per cui meglio non fare copie in colla vari perché poi si perdono magari caratteri strani per cui uno potrebbe usare un split una cosa simile per andare a separare i due campi solo che poi mi accorgo che ci sono degli stati che hanno all'interno del proprio nome uno spazio o per essere gentili anche due spazi quindi in questo caso è un po' una rogna dobbiamo trovare una soluzione però non è una semplice split che mi dà due campi separati come se avessi un separatore di campo diverso cioè che non compare mai all'interno del dato stesso addirittura questo qua ha uno due tre quattro spazi del suo interno non c'è ambiguità in questo file perché alla fine c'è una stringona lunga e poi un numero quindi alla fine riusciamo a capire come separarlo è solo scomodo ok non ci viene da amare troppo chi ha creato questo file ma alla fine sappiamo che ce la potremo cavare e vediamo come quindi questo punto qua è come faccio a estrarre i dati richiesti in una linea i singoli dati che nella lettura del file sono tutti impaccati in un'unica stringa che corrisponde alla riga del file e poi l'ultimo punto è se noi pensiamo soprattutto nel caso due leggo i dati poi li elaboro poi li scrivo conviene probabilmente separare le varie operazioni in funzioni diverse in modo da avere una migliore organizzazione del codice nel caso uno visto che faccio la lettura l'elaborazione il calcolo e la stampa all'interno di un unico ciclo mi diventa anche un po' scomodo dividere le cose in funzioni però anche qua conviene pensare per varie fasi del programma almeno io mi trovo bene pensarlo così ogni fase del programma ha una sua funzioncina che fa il suo lavoro e poi passo avanti allora queste sono un esempio delle domande che mi faccio quando devo elaborare dei dati contenuti in un file non è tanto il problema di elaborare il file quello lì lo apro lo leggo è finito lì il problema è che devo riuscire ad accedere ai dati contenuti nel file e ogni volta è una storia diversa infatti quello che abbia scritto nell'ora di dopo è che nella maggior parte dei casi reali la risposta giusta a queste domande non c'è cioè dipende sapete che dipende dalla risposta dell'ingegnere funziona va bene sempre di caso in caso devo un attimo far mente locale ma se faccio così cosa mi conviene che vantaggi mi da che svantaggi mi da se faccio in modo diverso altrettanto avrò altri svantaggi ma altri vantaggi ma vantaggi diversi la nostra dell'arte del compromesso trovare un buon punto di mezzo però dobbiamo imparare a farci da queste domande perché ciascuno di noi magari potrebbe arrivare a soluzioni diverse l'importante è averle scelte aver capito a che cosa vado incontro ok proviamo a non dico rispondere a a seguire le slide ma direttamente proviamo a impostare il programma seguendo questa questa traccia anche di domande allora mettiamo un attimo in pensione questi due file di testo e creiamo un nostro file popolazione punto pi e cominciamo a pensare un attimo ai nostri tre file allora in questo caso i file sono il nome di questi file è fisso è costante quindi noi potremmo metterlo chiamare file popolazione che si chiama wordpop.txt se non sbaglio vediamo un po' se l'ho copiato giusto wordpop.txt ok un file superficie che è word area punto txt e l'uscita superficie con la e e poi avrò un file con la densità che deve chiamarsi come me lo dice il testo dell'esercizio wordpopdensity.txt ricordatevi sempre di leggere bene il testo per vedere se vi da già una certa specifica va seguita se non vi da nessuna specifica ve lo inventate voi word underscore pop underscore density pop density punto txt ok dopodichè scelgo perché è più interessante di leggere prima i dati e poi elaborarli ad esempio poi se volete facciamo un'altra variante che in questo caso è relativamente semplice allora cosa vuol dire vuol dire che avrò una fase in cui leggo il primo file il programma main cosa fa legge il primo file leggo il secondo file calcolo le densità di popolazione stampo il file di uscita creo il file di uscita leggo il primo file quindi abbastanza lineare leggo il primo file significa innanzitutto decidere vabbè il file si chiama così quindi farò un open di quel file lì ma devo decidere come memorizzo i dati del file stesso come li memorizzo beh potrei rimemorizzarli sotto forma di una lista di string che corrispondono alle righe intere del file questo sarebbe facile anzi mi viene già in un'istruzione sola faccio readlines mi date una lista di string poi c'è il barrenne al fondo vabbè lo sappiamo gestire però poi diventa complicato lo potrei memorizzare così va benissimo però poi quando arriva a questo ragazzo qua che mi deve dire ma io devo fare il calcolo mi dai delle string sì sì il dato c'è ma me lo devo andare a estrarre quindi tanto vale secondo me cercare già di estrarre il dato mentre sto leggendo il file in modo che le parti successive del programma che devono poi fare le elaborazioni in questo caso l'elaborazione è cretina però in generale potrebbe non esserlo si trovino già le parti successive del programma che devono fare le elaborazioni si trovino già i dati in una forma ben fatta ci sono dei numeri che siano numeri non stringi e quindi cosa può restituire questo? qualcosa di un pochino più sofisticato ci servirebbero i nomi delle nazioni che questi potrebbero essere una lista di stringhe perché no? e le popolazioni il primo file era quello delle popolazioni che questa potrebbe essere una lista di interi quindi potremmo avere no questo qui diciamo che è troppo grezzo e quindi elaboro un pochino di più e quindi creerò una lista di stringhe con i nomi delle nazioni e una seconda lista di stringhe con la popolazione che scuro di stringhe no di interi con la popolazione dei singoli stati queste come le potremmo chiamare? le potremmo chiamare nazione di e l'altra la potrebbero chiamare popolazione di indico il generico per dire quella è una lista no? con un accordo che la nazione indice 27 è quella che è la 28esima del file alla popolazione che è memorizzata dentro la lista popolazione indice 27 cioè queste sono due liste indipendenti una la lista di stringhe l'altra la lista di numeri possono andare a spasso per conto loro ma l'esercizio funziona se io garantisco che nella posizione 27 c'è il nome di uno stato la cui popolazione è scritta nella esattamente stessa posizione indice 27 dell'altra lista io le chiamo liste parallele ma non è un nome ufficiale questo no? per dire liste che sono pensate per essere accedute per essere lette con pari indici pensate di leggere queste due liste che essenzialmente saranno la prima tenendo conto degli spazi e la seconda colonna di questo file pensate se qualcuno si sbaglia di fare un sort della seconda lista l'ordine per popolazione è certo che si può fare solo che poi te li sballa tutti perché tu hai l'elenco degli stati in ordine alfabetico l'elenco delle popolazioni in ordine numerico ma poi quale è quale quale corrisponde a chi ok? settimana prossima impareremo una struttura dati un pochino più sofisticata per riuscire a mantenerle insieme questo nome questa popolazione per ora non le sappiamo sappiamo le liste le usiamo si può fare benissimo ok? quindi dobbiamo fare in modo che le liste sono gestite in modo parallelo cioè vanno accedute con uguali valori dell'indice sicuramente per avere i dati corrispondenti ok? e questo è una descrizione di ciò che dovrò fare nel primo blocco del programma poi leggo il secondo file e faccio la stessa identica cosa il secondo file è formattato nello stesso modo nomi numero per fortuna il testo mi dice che sono entrambi in ordine alfabetico quindi ho la garanzia che la riga 90 del primo file corrisponde alla nazione della riga 90 del secondo file e quindi stessa cosa costruisco costruirò con i nomi nomi delle nazioni che sono gli stessi di prima e poi costruirò superficie di area delle superfici nazionali poi posso fare il calcolo quindi per calcolare densità di popolazione devo calcolare una terza lista di numeri reali che possiamo chiamare densità e la densità di I come la calcolo sarà uguale alla persona sotto l'altro spazio quindi popolazione di I diviso superficie di ho una lista di interi un'altra lista di interi faccio la divisione e mi creo una lista con i risultati di queste divisioni e quindi alla fine potrò creare il file di uscita quindi stampa crea il file e stampa i valori di che cosa di nazione di e densità di ok? questo è il nostro piano d'azione per implementarlo iniziamo a questo punto magari dall'inizio della prima operazione che devo fare cioè leggere il file quindi io posso perché mi piace tanto definire delle funzioni una funzione che leggi popolazione la funzione che riceva il nome di un file e restituisca cominciamo a scriverlo qua return nazione nazione e popolazione questo dobbiamo fare alla fine restituisce due list la funzione apre il file se lo legge fa tutti i lavori che deve fare sulle stringhe e alla fine restituisce due liste con il return di una tupla di due liste di due elementi che sono le due liste poi dovrò avere una seconda funzione che magari chiamo leggi superficie che invece restituisce la nazione nella superficie ma secondo noi che differenza hanno quelle due funzioni zero per come sono formattati i nostri file quelle due funzioni sono identiche allora è inutile scrivere due volte la stessa cosa tanto vale scriverlo una volta sola e chiamo questa funzione leggi i numeri e ritorno una lista di nazioni una lista di numeri che nel primo caso saranno i numeri della popolazione secondo caso saranno i numeri delle superfici quindi vuol dire che quando qui ho scritto leggo il primo file sotto questa è la funzione che qui devo ancora scrivere chiaramente qua sotto ho il programma principale quando c'è scritto leggo il primo file mi restituisce queste due cose io alla fine cosa farò scriverò un'istruzione che è nazioni nazione virgola popolazione uguale leggi i numeri numeri si chiama si e gli passo come argomento il primo file file popolazione e quando invece dico leggo il secondo file salverò dentro nazione superficie il risultato della funzione leggi i numeri sempre lei a cui però questa volta passerò il nome del file della superficie poi in questo caso ho una lista cosa succede che questa legge i numeri restituisce due liste la prima lista la memorizza nella variabile nazione la seconda lista la memorizza nella variabile popolazione la funzione quando lavora non sa se questi numeri siano numeri di popolazione o di nazione non lo sa non interessa tanto sono formatati nello stesso modo poi richiamerò di nuovo la funzione legge i numeri con il nome del secondo file questo sostituirà due liste una lista di stringhe che metto nella variabile nazione e una lista di interi che metto nella variabile superficie in questo caso questa nazione che ho messo qua a riga 29 potrei anche chiamare nazione 2 oppure niente non mi interessa oppure sovrascrivo quella di prima tanto se tutto funziona come deve è identica la stessa lista una lista diversa ma contiene gli stessi valori quindi va bene sovrascriverla a volte ma lo dico così a un passant per dire la funzione restituisce un valore ma non me ne frega niente di quel valore cosa che può capitare come adesso perché l'elenco dell'azione ce l'abbiamo già si assegna a una variabile che si chiama underscore underscore è un nome di variabile legittimo normale come si chiamasse x o y si chiama underscore però per convenzione quando metto so che se metto qualcosa dentro di underscore è perché non penso di volerlo usare però se vogliamo esplicito il fatto che butto via tra virgolette questo valore in realtà non è che lo butto via perché non si può buttare via un valore lo segno una variabile che convenzionalmente non andrò a leggere ma è inutile complicare questo perché per chi non conosce questa convenzione non è abituato al risultato di minor leggibilità teniamolo pure così a questo punto il resto del programma si fa in un attimo perché qua significa iterare su questa lista di numeri per questo punto non mi interessano più i nomi delle nazioni e calcolare la nuova lista superficie come posso fare la lista superficie beh come creo la maggior parte delle liste parto da zero parto da una lista vuota e poi ci aggiungo via via i vari elementi dunque sappiamo che per iterare sulle liste abbiamo due modalità una itera sugli indici questa sarebbe una possibilità e allora poi calcolo superficie la densità chiamiamola di è uguale alla popolazione di diviso la densità la superficie scusa di e quindi è fatta superficie non è superficie è densità ecco perché mi incasinavo densità punto append td allora non ci deve creare problemi il fatto che io se leggo la riga 36 dico ah sta iterando sulla lista popolazione si è creato un range con i numeri che sono gli indici delle posizioni all'interno della lista popolazione e quindi presumo che dentro quel for stia iterando sulla lista popolazione poi però ed è così guarda qua lista popolazione ma poi però mi accorgo che dentro il for sto anche iterando sulla seconda lista allora giusto così o devo fare un altro foro devo modificare il foro in modo che sappia che sto iterando anche sulla lista superficie va bene così ok ricordiamoci la stupidità dei tutti i linguaggi di programmazione quando scrivo il range di sta roba lì mi crea un elenco di numeri interi che vanno in questo caso noi dovremmo saperlo da 0 a 237 perché 238 è il numero di nazioni che ho poi questi numeri io avrei potuto benissimo scrivere il range 0,238 non è che lui si ricorda che quei numeri lì arrivano dalla lunghezza di popolazione sono numeri ad ogni iterazione di quel ciclo foro prende il numero successivo e quel numero lì lo usa come indice in due liste diverse ma perché prima ho promesso a me stesso che a pari indice trovavo nelle due liste trovavo dati corrispondenti questo lo so io adesso sapete anche voi non lo sa Python prendo il numero ok 20 indicizza nella lista vedo cosa c'è nella posizione ventunesima fine ok sono io che ho deciso di gestire queste due liste in modo parallelo e quindi quando voglio iterare sull'una sull'altra su tutte e due prenderò un insieme di indici che vale da 0 alla lunghezza o di una dell'altra sono lunghi uguali ok non è io su questo insisto perché le lavagne qua di matematica vi spostano un pochino il pensiero e sembra che la i sia legata a popolazione e allora per superficie non va bene i perché i è già l'indice di popolazione mi serve un j mi serve qualcos'altro no i è un numero niente di più non devo chiedermi ma che indice devo usare che variabile devo usare come indice devo chiedermi che numero devo usare tra parentesi perché venga pescato il valore giusto e vabbè questo dovrebbe funzionare ci convince che funzioni ma noi sappiamo che io posso iterare sulle liste anche per valore perché c'è marì range length è lungo ma tu potresti benissimo fare for popolazione pop 1 chiamiamola pop semplicemente in popolazione n pop chiamiamola numero di popolazione non chiamo pop perché poi me la confondo col metodo pop della lista in popolazione no? questo lo posso fare itero che cosa? questo ciclo formi itera con la variabile n pop sui valori presenti all'interno della lista quindi anziché darmi io uguale 0 io uguale 1 uguale 2 uguale 3 in una noiosissima sequenza numerica n pop assumerà i valori alla prima iterazione 3 2 6 3 2 7 3 insomma 32 milioni qua alla seconda iterazione 15.700 alla terza 3.600.000 alla quarta 33 milioni a rotti e così via ad ogni iterazione questo n pop assume uno di quei numeri e quindi potrei fare lo stesso calcolo di prima D uguale n pop diviso diviso qua un po' problema diviso la superficie dello stato che corrisponde a questa popolazione qui allora mentre prima iteravamo sugli indici abbiamo detto l'indice va bene per tutte e due quando itero sul valore il valore dell'uno non è uguale al valore dell'altro non sono intercambiabili allora qualcuno ha delle idee su come faccio a calcolarmi a estrarre quella popolazione giusta? eccolo lì guarda come ti odiano allora lui ha detto la prima cosa che vi viene in mente è dire la posizione della superficie la posizione uguale popolazione punto index dn pop cioè dici devo andare a prendere nella superficie la posizione non so quale posizione ma so che è la stessa posizione in cui nella prima lista si trova 57000 15700 allora faccio un index nella popolazione per trovarmi quel valore che di sicuro c'è mi darà quell'indice e quindi vado poi a estrarre dalla superficie in quella posizione lì il dato che mi serve e poi va beh densità punto appende questo funziona se se non ci sono stati che abbiano la stessa popolazione se invece ci fossero due stati che hanno la stessa popolazione quando prendo il primo bene quando trovo il secondo mi dà la superficie del primo perché l'indice non deve trovare il dato prima quindi andare a fare un ciclo su un valore e poi da lì cercare di estrarre l'indice a cui hai trovato il valore che su cui stavi ciclando è un po' la pirla perché uno è rischioso nel senso che se ci sono dei valori duplicati sbaglio indice due è poco efficiente perché dopo che ho preso un valore devo andarmi ricercare l'intera lista per sapere dove si trova ogni volta devo andare a cercare index è un'operazione che non è indolore perché va listarelle da 200 elementi ma sono sempre più di 10 però al di là della relativa lentezza dell'operazione di index perché poverina se deve andare a cercare tutta la lista c'è proprio questo rischio di sbagliare allora è giusta questa istruzione qua 42 ma l'indice non lo devo trovare così non lo devo trovare con un index ok come lo trovo? la posizione in cui trovo posso fare? quindi lui sta dicendo poiché sto esplorando le popolazioni in ordine di apparizione l'indice in cui si troveranno questi elementi saranno numeri progressivi e quindi dice ma io la posizione di superficie può partire da zero e poi una volta che l'ho usata la incremento per cui lui cosa fa? dice la prima volta prende superficie di zero poi dopo che l'ho preso la faccio diventare uno la seconda volta prende una superficie di uno e così via quindi sto in qualche modo iterando la popolazione prendendo i valori e la superficie prendendo un numero intero che via si incrementa che poi è quello che faceva qua ok? questo funziona non ha problemi se non non che ho scritto cinque righe invece di due ok? per dire nel caso in cui io debba iterare su una sola lista il for sul valore spesso è molto comodo se devo già fare cose un pochino più complicate come iterare su due liste come in questo caso conviene lavorare sugli indici quindi questo qua lo commentiamo non perché sia sbagliato ma perché l'altro semplicemente è più semplice attenzione a non fare cose come questa numero di popolazione in popolazione for numero di superficie in superficie di uguale n pop su n sup densità appunto appende di perché non potrebbe dire beh la prima volta itero devo iterare su due liste e metto due foro e quindi alla fine ho n pop e n sup che vanno a prendere ciascuno un elemento di qua un elemento di là no? figo tanto figo quanto sbagliato perché sbagliato? alla fine dentro densità quanti elementi vanno a finire? tra 128? vanno a finire 328 al quadrato elementi ok? perché facendo così cosa faccio? prendo la popolazione del primo stato e per il primo stato prendo tutte una per una le superfici di tutti gli stati quindi farò la divisione popolazione del primo stato fratto superficie del primo popolazione del primo fratto superficie del secondo del terzo del quarto del quinto e ognuno mi dà un valore di densità che vado a appendere in fondo quando ho messo 328 densità la cui prima reale e le altre sono stupide perché è una popolazione di uno stato rispetto a superficie di un altro stato allora passo avanti alla seconda popolazione iterando sulla prima riga e sul secondo stato popolazione del secondo stato vado a dividere per tutte le superfici di tutti gli stati di nuovo e quindi aggiungerò altri 328 elementi di cui il secondo questa volta è quello buono e gli altri sono numeri a casaccio e così via quindi una cosa che dobbiamo cancellarci dalla mente prima che ci si fermi è un pensiero che dice ho due liste e devo fare due cicli no ok a volte sono automatismi che dicono un ciclo su una lista ho due liste faccio due cicli a volte e lo faremo faremo cicli annidati di questo genere l'abbiamo fatto sulle matrici però ricordiamoci che quando abbiamo dei cicli annidati il numero di iterazioni è sempre il prodotto del numero di iterazioni sul ciclo esterno per il numero di iterazioni sul ciclo interno in questo caso non ci serve questo non stiamo incrociando popolazioni e superfici in tutti i modi possibili li stiamo leggendo in parallelo un dittino di qua un dittino di là ma il dittino è lo stesso o le due dita si muovono insieme in sincrono non in tutte le combinazioni possibili ok quindi questo non ci sarebbe venuto in mente ma non facciamocelo venire in mente questo è di quelle cose che se vedi l'esame le commenti così ok quindi il nostro algoritmo alla fine è questo che funziona se se la funzione leggi numeri torniamo alla parte erogiosa funziona in realtà io l'ho scritto qua direttamente nel codice a questo punto potremmo anche incapsularlo in una funzioncina una funzioncina la metto sopra potrebbe essere una funzione def calcola densità che riceve come argomenti la popolazione e la superficie e fa questi conti quindi li tolgo da sotto li sposto sopra li rientro di un gradino e faccio un return di densità e ovviamente sotto chiamerò quella funzione quindi chiamerò densità uguale calcola densità popolazione e gli passo due argomenti popolazione virgola superficie è uguale a prima non ho cambiato niente lo sono spostato dentro una funzione perché poi io mi immagino il programma main senza tutti questi commenti verdi sono quattro istruzioni secche lì vabbè però prima di andare avanti dobbiamo fare questa legginumeri non possiamo raccontarcela troppo quindi cominciamo a scrivere questa legginumeri devo aprire il file e leggere abbiamo provato la volta scorsa che per non dimenticarci la close del file e in questo caso è importante ne stiamo aprendo due tra l'altro quindi apro uno leggo chiudo il primo apro il secondo leggo chiudo il secondo però possiamo usare la costrutto with che apre un file e automaticamente lo chiude quando esco dal blocco with with open nome del file in lettura encoding uguale utf trattino 8 as il nome della variabile che posso usare che voglio usare per accedere al file chiamiamola f visto che è l'unico ok questa with fa sì che quando esco dal blocco with quindi quando esco della rientranza il file venga chiuso automaticamente a questo punto il file è aperto e leggo una riga per volta for line in F i dati sono uno per riga facciamo un ciclo per riga adesso abbiamo queste due per ogni riga dobbiamo aggiungere un elemento alla lista nazione e aggiungere un elemento alla lista numeri liste che ovviamente dovrò inizializzare a lista vuota prima dell'inizio della lettura del file adesso io ho una stringa line devo dividere questa stringa in modo da avere una stringa da usare come nazione quindi da appendere la lista nazione e un intero allora a me vengono in mente due modi di lavorare tenendo conto che se ci fosse uno spazio se i nomi delle nazioni non avesse uno spazio dentro basta fare una split l'elemento di 0 è il nome dello stato l'elemento di 1 è il numero poi lo converto in int ma visto che ci sono questi spazi in mezzo come posso fare allora vi dicevo mi vengono in mente due modi immaginate avere solo quella riga lì un modo è partiamo dal fondo della stringa e andiamo indietro finché troviamo cifre numeriche while is numeric decrementa l'indice c'è una roba simile a quella che vi ho fatto la settimana scorsa quando trovo qualcosa che non è numerico mi fermo vuol dire che da lì in poi c'è il numero da lì in prima se si può dire in italiano ho il nome poi devo trimmare un po' di spazi perché questo è un modo vado per caratteri trovo il punto di taglio e taglio faccio due porzioni di stringa una prima e il dopo l'altro modo è quello di andare un pochino quindi è molto chirurgico l'altro modo che mi viene in mente è quello di andare un pochino più col macete e dire facciamo split allora se faccio una split di quella riga lì otterrò che cosa? otterrò quattro stringhe una lista di quattro elementi perché sono quattro blocchi separati da spazio ok i primi tre li rimetto di nuovo insieme li rincollo insieme l'ultimo è il mio numero quindi io faccio una cosa così se ritrovo il file eccolo qua estraggo le parole della riga con uno split brutale se va bene quello split parole mi dà una lista di due elementi il nome il numero se va male mi dà una lista di più elementi di cui i primi sono i pezzi del nome e l'ultimo sempre il numero quindi il numero è facile è sempre l'ultimo prendo l'ultimo elemento di questa lista splittata ricordiamoci il risultato splitt prende una stringa e restituisce una lista di string l'ultima stringa parole di meno uno contiene il numero contiene i caratteri del numero e il bar n perché non abbiamo cancellato il bar n c'è ancora però int non si fa spaventare da un bar n e quindi funziona senza dare errori e quindi è stato il numero e il nome e il nome è fatto da tutte le gli elementi della lista parole precedenti tranne l'ultimo tutti quelli precedenti che però a me non interessa averli come lista mi interessa mettere i due insieme come stringa incollandoli insieme riseparandoli o rincollandoli con uno spazio quindi cosa do fare? spazio punto join della lista di parole dalla prima all'ultima esclusa dimmi sì lui si è accorto che all'interno del file i nomi delle nazioni rispetto ai numeri sono separati da sembrava due caratteri uno spazio e un caratteri di tabulazione e quindi lui propone se io facessi uno split non uno split generico che splitta su qualunque sequenza di spazi bianchi ma uno split sul carattere di tab di tabulazione si può fare si chiama barra t nelle stringhe allora dovrebbe tagliare esattamente lì nel caso in cui ci sia veramente una tabulazione su ciascuno adesso noi non abbiamo abbastanza informazioni su questo file ma da quello che abbiamo visto sembra che sia che funzioni quindi sarebbe un altro modo scusa a Zerba già non hai tab dove è a Zerba già sì che ce l'ha c'è uno spazio e un tabettino che allora il tab normalmente quando negli editor ti porta al prossima colonna multiplo di 8 e lì solo di 1 lo vedi qua selezionando lo vedi che il disegno non so se riesci a vedere sul proiettore disegna una frecciolina piccola azzurra ah questo poco simpatico perché effettivamente si vede che qualcuno ha giocato con questo file prima eh sì infatti allora non funziona perché qui non c'è il tab in questa riga allora io non so che problema abbia ma li ha controllati tutti i 328 e poi ha detto che solamente i primi due manca sto scherzando magari hai fatto con un programma però il file è così e quindi anche solo per uno non potremmo usare quel quindi qualcuno sicuramente ha fatto casino non so su quello dell'area su quello dell'area e viene un posto anche i primi due quindi probabilmente è stato pacioccato con qualche modo il file delle popolazioni e i tab si sono trasformati in spazi diciamo che quello che ho scritto io è quello più conservativo cioè funziona sempre dimmi dunque sì lui vorrebbe io cerco dall'inizio della stringa vado avanti finché trovo qualcosa che non è un numero e appena trovo un primo numero si ferma questo sta dicendo che non esiste nessuno stato al mondo che all'interno del proprio nobile abbia una cifra numerica non che me ne vengano in mente ma non sono mai stato un campione di geografia quindi sì se è vera questa proprietà dei nomi degli stati di non contenere una cifra si può anche fare così però a me piace un pochino di più questo approccio qui perché ci fa lavorare un po' a livello un pochino più alto sfruttando le funzioni di libreria e non i singoli caratteri che vado a prendo ma sono uguali l'importante è sapere cosa stiamo facendo nei vari passaggi e ricordarci che alla fine nazione punto append nome e numeri punto append il numero dentro il ciclo for chiaramente se avessimo lavorato per caratteri cercando il primo l'ultimo eccetera avremmo avuto un altro ciclo for interno che semplicemente ci navigava la stringa fino al punto di taglio dimmi nome ho fatto allora parole di 0-1 è la lista delle parole che mi hai dato la split tranne l'ultima ok allora nel caso in cui ce ne sia una sola va bene sarebbe già lei ma nel caso in cui ce ne siano due immagina avere una lista dei due elementi io voglio in realtà ricostruire una stringa che abbia primo elemento spazio secondo elemento e questo c'è che fa la join join è un metodo delle stringhe che prende come primo come stringhe su cui lavorare il separatore che a questo punto non è che separa ma unisce quindi l'unificatore la stringa da inserire a metà punto join tra parentesi la lista che contiene le stringhe da incollare quindi con la split ho preso una stringa e l'ho divisa in lista con la join ho fatto l'operazione inversa con la differenza che ho lasciato fuori l'ultimo elemento sì poi forse sarebbe bene fare una cosetta del tipo punto trim si chiama trim strip scusate trim in javascript perché facendo questa operazione probabilmente non sono sicuro bisogna verificarlo ma potrei avere questi spazi qua che stanno ancora dentro la stringa no la split dovrebbe averli tolti no forse non serve come l'ho detto vabbè sto cercando qua di con questa strip togliere eventuali spazi eccessivi a sinistra e destra ma forse non ci devono essere perché già la split fatta senza argomenti se li mangia tutti gli spazi dimmi sì 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 allora lui dice facendo così hai ricostruito una stringa dentro un'azione che non è esattamente la fotocopia di questa perché l'ho ricostruita aggiungendoci io degli spazi ma allora gli spazi che ci ho aggiunto sono quelli che erano interne al file questi spazi spazio più tab tra il nome e il numero ce li metterò quando farò la stampa del file io dentro nominazioni tengo solamente questa parte qui questa parte qui allora qui ho tolto gli spazi ho rimesso gli altri spazi ma sempre spazi sono poi come separatore qua tra nome e numero quando creerò il file adesso devo creare il file ci metterò spazio tab per ricrearlo in modo identico a quello di partenza ok allora vediamo se sta roba qua funziona fino a qua print nazione print popolazione e print superficie e poi se vogliamo print densità facciamo un run vabbè ovviamente da errori no? allora cosa mi ha fatto? mi ha stampato le nazioni in ordine andiamo a vedere se ci sono degli spazi Hong Kong c'è uno spazio non è esploso nulla dove c'erano gli spazi li ha mantenuti poi mi ha stampato le popolazioni 32 15700 che conoscevamo 3.600 33 milioni erano quelli là poi ho stampato le superfici 64 123 sono loro e poi mi dovrebbe calcolare stampare le densità ma non lo fa perché mi dice division by zero perché ho fatto la divisione mannaggia queste lavagne qui dietro devo controllare il denominatore c'è uno stato almeno uno stato che ha superficie zero in questo caso appunto è la città del Vaticano eccolo qua che fa meno di un chilometro quadrato immagino adesso tra l'altro immagino siano chilometri quadrati questi queste superfici ma non ne sono sicuro e vabbè non avevamo pensato quel caso particolare ci pensiamo adesso quindi questa cosa qua va bene se superficie di è diversa da zero altrimenti eh? altrimenti cosa ci metto? nel file di uscita se è una densità infinita eh? cioè la risposta non c'è nel senso che dovrei andare a questo punto a prendere il telefono a chiamare chi mi ha commissionato questo programma e dire scusami in questo caso qua cosa preferisci che io faccia? che non ti metta il Vaticano? che te lo metta con densità zero? schifo che te lo metta con densità asterisco cacchio ne so meno uno valore sentinella che sia riconoscibile almeno se dovessi mettere un valore sentinella preferirei mettere un meno uno che è un asterisco per il fatto che è un numero visto così almeno quella colonna lì contiene tutta numeri non è che possiamo adesso ce lo diciamo noi per forza perché non sappiamo chi telefonare l'autore del libro diciamo che ci mettiamo io le due scelte ragionevoli sono un valore sentinella cioè un valore facilmente sicuramente sbagliato facilmente riconoscibile per essere sbagliato oppure salto la riga essendo intero poi quando creo il file non mi crea problemi e si è stampato insieme agli altri interi questa volta ce la fa questa volta non mi dà più errori e come ultimo mi riempie tanti bei cifre tanti bei numeri frazionari e poi meno uno lì in mezzo che sappiamo da dove arriva ok a questo punto non ci rimane che stampare il file di uscita ma allora a questo punto mi facciamo mi faccio ci facciamo giurate voi il verbo che volete un'altra funzione scrivi scrivi densità e riceve anche lei il nome di un file da scrivere e ovviamente e ovviamente la densità la lista dei valori da scrivere e la lista delle nazioni deve saperle per poterle stampare quindi qui questa volta apro un file ma in modalità della scrittura with open nome nome file write in modalità della scrittura scrivi e sovrascrivi quello che c'era encoding ok ricordate per avere i regali sotto l'albero non dovete dimenticare l'encoding a questo punto faccio il contrario itero prima in lettura iteravo sul file e costruivo liste e in scrittura itero su una lista e costruivo il file itero su una lista anzi due liste su cui itero e quindi userò l'iterazione per indice abbiamo visto prima che era la cosa migliore da fare for in range length di nazioni e qui meno male che abbiamo deciso di mettere un valore sentinella e non di saltare la riga che dava divisione per zero perché se avessimo mai deciso di saltare la riga avremmo avuto da metà in avanti le nazioni le densità che non corrispondevano più se non almeno mi sarei dovuto ricordare di cancellare anche la nazione ci andavamo a ficare in un ginepraio abbiamo scritto queste liste vanno avanti in parallelo ai nostri indici manteniamo la promessa e quindi cosa devo fare fa f.write e poi ci mettiamo un f string che componga ciò che ci serve magari facciamo per comodità il nome lo estraggo da nazioni di e la densità lo estraggo da densità di e quindi creo una string in uscita che contiene prima di tutto il nome poi spazio tab perché abbiamo visto che ci piace questa codifica strana e poi il nome di D cioè il numero D della densità andiamo a riprendere un po' il testo ci diceva stampameli così nazioni allineate a sinistra e i numeri allineati a destra la simpatia dell'ultimo momento proprio e magari con due cifre decimali vabbè allora con due cifre decimali faccio in fretta a farlo punto punto 2f cominciamo così poi allineiamo ok allora non confondiamo D è il nome della variabile F è il formato plotting point e poi è già barra N perché la write non lo aggiunge da sola barra N così come la read non lo toglie la write non lo aggiunge basta no? perché alla fine del ciclo for esco dal with esco dalla funzione chiudo il file e finisce non ho altro da fare dopo che ho scritto la roba nel file se non scriverevo eh ce l'ho fatta ma non è richiesta e quindi in fondo creo il file di uscita significa semplicemente chiamare la funzione scrivi densità col nome del file che è file densità nazioni densità che è nazioni no si chiama nazioni si chiama nazione nazione che è la variabile che ho letto qua e densità che è la lista che ho calcolato qua allora facciamo così magari togliamo un po' di print perché oramai li sappiamo a memoria questi numeri facciamo un run beh il run l'ha fatto l'errore non l'ha dato andiamo a vedere cosa ha creato wordpop density l'ha creato contiene queste cose qua spazio tab spazio tab eccetera e questo ricrea il file in un formato analogo a quello di partenza non rispetta esattamente le specifiche per rispettare le specifiche devo allineare i numeri in modo diverso e allineare i numeri in modo diverso significa che devo sapere quanto è a lungo questo in modo questo o il più lungo ecco forse è questo e fare in modo che tutti i nomi di stati vengano stampati esattamente con quel numero di caratteri lì e poi la parte sulla popolazione la stamperò anch'essa con un numero di caratteri fisso che devono essere almeno ho visto prima un 4.000 miglie almeno 7 non so se ci sono dei 10.000 forse sì mettiamoci un spazio in più e ci risolviamo il problema quindi vuol dire che semplicemente vado a ritoccare l'effestring dicendo che il nome quando è che era il Congo quanti caratteri era 34 colonna 34 messo il cursore qua quindi ne mettiamo 40 40 40s vuol dire formattami questa stringa su 40 caratteri per default l'elemento delle stringhe è sempre sinistra quindi vuol dire che lui aggiungerà degli spazi in coda a questo punto questo spazio qua possiamo anche toglierlo ne abbiamo già e poi abbiamo abbiamo detto supponiamo che il massimo di densità sia dell'ordine del 10.000 quindi 10.000 sono 5 cifre prima della virgola una che è la virgola e due dopo quindi fanno 8 mettiamo 10 e quindi facendo così mi dà i nomi generosissimamente spaziati ma incolonnati come mi ha richiesto in questo esercizio qual è la difficoltà principale due difficoltà un'algoritmica e una pratica quella algoritmica era il fatto che noi dovevamo tenere conto contemporaneamente di due dati diversi nazione e popolazione quindi avere due liste da gestirci quella pratica è il fatto che il formato del file fosse un po' sfortunato per dire le parole gentili per colpa di questi spazi qua e per colpa di questo zero ma lo zero ci sta poverino è un dato gli spazi potevano evitarseli ecco cosa che ma immaginate avere i file dei dati più complessi più complicati e converrà magari darci delle regole su come sono codificati questi questi file infatti la prossima volta vedremo ad esempio andiamo a riprendere questi qua che erano i dati che vi ho fatto vedere alla primissima lezione adesso cominciamo ad essere in grado di maneggiarli e quando abbiamo dei dati strutturati normalmente il formato che si trova è un formato cosiddetto csv che sta per comma separated variables le varie variabili i vari campi sono separati da virgola quindi se sono separati da virgola da virgola non ci spaventano più gli spazi interni ai nomi che ci possono essere perché io la split la farò sulla virgola non sullo spazio mi spaventeranno altre cose come ad esempio le virgole dentro i nomi ma su quello diciamo così impareremo a gestirlo soprattutto perché scopriremo che visto che il formato csv è molto utilizzato c'è già una libreria apposta per aiutarci a leggere e a scrivere file in formato csv se reggete fino a mercoledì ve lo spiego mercoledì grazie